ciao bikers e amici di peprati mountain bike roma abbiamo creato questo format per raccogliere in pillole tutte le richieste di consigli tecnico pratici che durante le uscite ci si scambia in compagnia ma veramente abbiamo intenzione di fare una cosa del genere dai ma chi ci seguirà mai non siamo meccanici o professionisti ma vorremmo semplicemente mostrarvi quello che negli anni altri biker e tecnici più esperti di noi ci hanno suggerito per noi e le nostre bici hanno funzionato il tono sarà sempre goliardico ed ironico ma funzionale come contraddistingue da sempre il gruppo peprati mountain bike roma se avete richieste o argomenti da suggerirci per i prossimi video in pillole beh scrivetecelo sotto in descrizione e saremo felici di documentarci e prenderli in considerazione sempre nei nostri limiti ovviamente di video tutorial in rete ce ne sono milioni quindi saranno video brevi appunto in pillole ma ben organizzati e rapidi da consultare la bici per noi è sempre stato divertimento e argomento di discussione sui nostri social ma nei nostri video anche le location come potete vedere alle mie spalle avranno la loro importanza perché abbiamo la fortuna di avere roma come sfondo mostrandovi i luoghi che frequentiamo di più grazie per averci seguito fin qui e vi suggeriamo di seguire tutti i nostri social ovviamente qui sotto in descrizione per tutte le prossime iniziative ciao e ricorda di lasciare un like a questo video e ricordati di iscriverti se non l'hai già fatto al canale perché nel prossimo video come da voi richiesto parleremo di